Il Sant'Arcangelo è corsaro a San Benedetto del Tronto. I gialloblu passano subito in vantaggio con l'imbucata centrale di Gatto che non lascia scampo ad aridità. Al decimo però Danza atterra irregolarmente Mancusi in area. Il rigore è sacrosanto. Dal dischetto allo stesso numero 7 non fallisce il pareggio. È una gara vivace. Il Sant'Arcangelo approfitta della fragilità difensiva della Samb ed arriva al nuovo vantaggio al diciottesimo di Merini. I gialloblu approfittano del momento di sbandamento degli avversari portandosi sul 3-1 grazie al rigore in movimento di Valentini. Nella ripresa due brutti contatti costano la doppia inferiorità numerica alla San Benedettese. Prima viene espulso Sabatino ad inizio secondo tempo e poi all'ottantesimo da Monte. I rosso-blu però trovano le forze per riaprire inasperatamente la gara. Da corner Bacinovic gira alle spalle di Nardi ma i tre punti acquisiti valgono salvezza matematica e finestra sui playoff. Male invece il Forlì che deve solo arrendersi allo strapotere della Virtus Bassano. Al Morgagni domenica sera apre le marcature l'incontenibile Fabbro con una botta potente. Al cinquantottesimo ci pensa Grandolfo a finalizzare il contropiede decisivo. Nel finale lo stesso Fabbro per farlo di reazione viene espulso. A due match dalla fine il Forlì parteciperà ai playout ma deve fare attenzione a non sprofondare all'ultimo posto che vorrebbe dire Serie D diretta. Grazie a tutti. 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 Grazie.